Oh, dunque, riconoscete la location, c'è il talismano, c'è Postman, indegnamente, ovviamente questa è la UEFA Champions League. Ciao Marcello, ciao a tutti i fratelli e sorelle Juventinazzi di Topland da parte del vostro Postman in compagnia, ovviamente, del talismano Andrea Monaco, sono ospite qui a Macerata nella sua agenzia di scommesse SITA in via Develini. Quindi, che Andrea, ovviamente questa è la preview di Juventus-Siviglia, la prima partita della nostra nuova avventura che speriamo ci porti a Cardiff. Allora, la formazione della UE dovrebbe essere? Allora, Buffon tra i pali, difesa consolidata a tre ormai con Barzagli, Bonucci e Chiellini, i cinque centrocampisti che saranno Dani Alves a destra, Lemina in fase di regia, con fiancato da Chiedira e Pjanic, e Alex Sandro che sta in ballottaggio con Evra a sinistra. L'unico dovrebbe essere l'unico ballottaggio con l'olì? E davanti la formidabile coppia Iguain di Palo. La Juve in HD, la Juve in HD. Formato Champions, poi. Chiaramente, caro Marcello, noi, il precedente è la vittoria della nostra stagione 2-0 Morata-Zazza. Ci abbiamo qui il ritorno a Sevilla. Che praticamente c'è costata la Champions. Marcello, ovviamente, imperativo categorico vincere, partire con una vittoria sfruttando il fattore campo di Juventus Stadium. Allora, noi, quindi, vi rimandiamo al video post partita che per Marcello, per Topland e per il mio canale YouTube ha la seconda preview, che farò sempre perché Andrea è l'uomo della Champions. Quindi, per Dinamo Zagari a Juve, che sarà il 27, non lo faremo prima. Salutiamo Marcello, qui, con tutto il canone cucuzzato del Topland. Ovviamente, salutiamo a tutti. Annonella e Angelo. Sarebbero la sorella e i suoi compagni, il futuro cognato. Esatto. A tutti quanti il nostro saluto e, ovviamente, fino alla fine, vamos Juve!